Il professor Alberto Lombardo insegna Ingegneria dell'Università di Palermo ed è qui per il Partito Comunista, come dice anche l'adesivo che si è appuntato sulla giacca. Il Partito Comunista torna in Italia? Il Partito Comunista torna, torna in Italia, lo stiamo ricostruendo con grandi difficoltà e ora abbiamo pure la possibilità di presentarci nelle grandi città, nord, al centro, al sud, gli elettori finalmente potranno ritrovare il Partito Comunista con la faccia e il martello che non si nasconde più dietro altre sigle, dietro altri colori, noi torniamo con la nostra faccia. Perché c'è bisogno che torni il Partito Comunista? Guardi, io credo che ci siano tante ragioni, ma la ragione fondamentale è la ragione della ideologia, spesso si attacca questo termine pensando che sia un termine vecchio, però per noi l'ideologia è la memoria, un giovane, una persona senza memoria, un bambino o un demente, hanno distrutto la nostra ideologia e quindi sta passando di tutto nel modo più terribile. Io vedevo proprio qua davanti, davanti al Montecitorio, tante persone che sono veramente arrabbiate, non c'è bisogno che io qua vi faccia elenco delle cose che non vanno in Italia perché è sotto gli occhi di tutti, ma il punto è come si risolve? E allora noi diciamo che questa baracca non si aggiusta, si deve cambiare, ci vuole una nuova società e per avere un progetto di società bisogna fare riferimento alla storia, alla storia del Movimento Operaio, laddove questa storia è stata vincente. Per noi la storia è stata vincente quando si è avuta una idea complessiva di nuova società che non può cercare di aggiustare questo o quello, anche perché non si aggiusta nulla. Ormai i problemi sono così incancreniti che chi vi dice, ah e allora alziamo le tasse di qua, le abbassiamo di là e spostiamo una cosina un po' in qua, più in là vi sta prendendo in giro. Questa baracca va buttata giù e fa costruita una nuova società che è la società socialista. E quindi qual è il vostro progetto politico? Il nostro progetto politico è intanto di farci conoscere, noi ci presentiamo alle elezioni non perché qualcuno di noi cerchi di trovare un posto o un posticino di governo o di sottogoverno, ormai questi tempi sono finiti, anche perché l'abbiamo visto, ci hanno portato al disastro. Collaborare con governi borghesi ma non porta nulla, anzi si fanno le porcherie peggiori a nome dei comunisti, a nome dei lavoratori, basta. Noi ci presentiamo per fare conoscere la nostra idea, per riportarla tra la gente, per riportarla tra i lavoratori e per costruire un partito comunista più forte, per noi è una vetrina. Dopodiché chi ci vorrà votare ci voterà ma soprattutto noi più che il voto chiediamo l'intelligenza, le braccia, la mente dei lavoratori, perché i lavoratori quando sono coscienti e sono uniti, sono la forza più forte del mondo. Quando sono divisi come sono ora è chiaro che sono alla merce del primo squalo che li vuole distruggere. E quindi da cosa si dovrebbe partire secondo lei in questa società che voi auspicate? Noi intanto diciamo che bisogna partire dalla statalizzazione dei mezzi di produzione, cominciare da quelle più grandi, non certo l'abito, la macchina che io guido, ma i grandi mezzi di produzione devono essere statali sotto il controllo dei lavoratori. Lei mi dica se è possibile affidare la sanità al privato, lei mi dica se è possibile affidare l'istruzione al privato, ma anche le grandi imprese, le imprese che svolgono un ruolo fondamentale nella società devono essere assolutamente statali. Lo Stato funziona molto meglio del privato e l'abbiamo visto quanto funziona male il privato, noi lo diciamo ideologicamente, ma ora lo stiamo toccando con mano, sull'acqua, su tante cose. Perché? Perché lo Stato intanto non produce per il profitto, ma lo Stato deve produrre per i lavoratori, sotto il controllo dei lavoratori ovviamente, perché se no torniamo a uno statalismo che certo non è stato molto positivo. Setta, sul vostro sito si legge contro l'Unione Europea, contro la Nato per il socialismo, siete gli unici che dite espressamente contro l'Unione Europea? Se noi non usciamo dall'Europa non possiamo uscire dall'Euro e se non usciamo dalla Nato non possiamo uscire dall'Europa. Sono tre cose assolutamente legate, chi vi dice che vuole uscire dall'Euro ma non vuole uscire dall'Europa o chi non vuole uscire dalla Nato vi sta prendendo in giro e tutto un blocco si prende o si butta. Così come in Grecia abbiamo visto che una rivoluzione tra virgolette a metà è completamente fallita. Ma tutto questo non è un po' troppo ideologico? Sì, sì, è proprio ideologico e senza l'ideologia non si va da nessuna parte, senza un'idea nella testa dove vuoi andare.